allora io oggi vi insegnerò a fare una collana con i cristalli o con le perline insomma la classica collana all'uncinetto con le perle io utilizzerò questo che è un filo di lame ma potete utilizzare qualsiasi filo vogliate naturalmente poi il filo dallo spessore e dal diametro cambierà il risultato del vostro lavoro poi bisognerà che vi infiliate chiaramente delle perle allora io da una parte all'estremità di questo filo ho infilato un pezzo semplicemente di alluminio da 0,3 e l'ho usato come infila perle ho infilato fino adesso un po' di cristalli, vi faccio vedere, ne infilo due di un tipo o di un altro semplicemente con questo aghino fatto con il filo di rame che è molto più diciamo economico che andare a comprare l'ago in fila perle quindi voi dovete infilarvi un numero di cristalli tale che sia sufficiente per finire la collana però lasciate sempre questa estremità aperta in maniera che se per caso vi mancano dei cristalli o delle perle insomma ne potete infilare ancora però considerate sempre di avere il numero di cristalli sufficiente a finire la collana a questo punto io taglio un pezzo di filo molto lungo che sarà il filo dove inizieremo a lavorare di solito se facciamo la collana semplice io ne taglio il doppio ma se facciamo una collana come questa che faremo a torcion cioè io vi farò vedere l'inizio di collana all'uncinetto poi la disferemo e faremo il torcion ne dovete calcolare almeno il triplo quindi tenetevi sempre molto abbondanti allora siccome io uso un uncinetto numero 0,3 metto il filo così prendo il filo lo giro e faccio un cappio all'interno di questo cappio vado a fare una due tre quattro e cinque che mi servono siamo come base che mi serve poi servirà per lavorare il la collana adesso faccio arrivare fino al lavoro piano 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 il cristallo il primo cristallo o fate scendere tutti i cristalli e ne fate salire uno alla volta adesso vabbè io faccio così per fare prima ecco arrivati qua vi faccio vedere quella che è la prima tecnica di montaggio della perla o del cristallo siete arrivati qui fate semplicemente così cioè prendete il filo dietro il cristallo e lo inserite nel cappietto poi solitamente si fa un altro catenella di di stacco e si fa salire un altro cristallo adesso io li faccio salire tutti così li abbiamo tutti vicini tenendo sempre presente che avete l'estremità opposta da cui potete sempre aggiungere cristalli o perle quello che avete messo la stessa cosa farò successivamente cioè prendo di nuovo il mio cristallo tenetevi a me sempre stretto il lavoro vado dietro cristallo tiro e inglobo il cristallo e faccio ancora una catenella vedete che si inseriscono i cristalli prendiamo un altro cristallo facciamo lo stesso lavoro chiudiamo e andando avanti in questo modo otterrete una collana tutta di cristalli ora qua potete fare due catenelle fra un cristallo e l'altro una quello che volete dipende da quanto volete stare stretti da quanto volete che si veda il filo ora di sfiamo tutto perché vi faccio vedere la tecnica che è un pochino più simpatica che quella del torsion quindi rifacciamo il nostro cappietto le nostre cinque catenelle e a questo punto semplicemente prendo tre cristalli invece che uno e vado a chiudere così faccio una catenella e vado a prendere altri tre cristalli e chiudo in questo modo poi faccio un'altra catenella e vado a prendere altri tre cristalli e chiudo tenete sempre il lavoro molto stretto altri tre cristalli e chiudo e faccio un'altra catenella potete anche non farla è la catenella io la faccio perché se si lavora male se no si troppo allo stretto però volendo si può anche lavorare di seguito senza catenella vedete che si sta formando una spiralina che poi portata cioè allungata fatta lunghissima fa diciamo la figura del torsion ora io vado avanti ancora un po per farvi vedere l'effetto che fa andiamo a riprenderci le estremità del filo che avete lasciato infilato nel lago e montate su un po di cristalli quindi se fate la collana come sta facendo io a torsion vi conviene utilizzare montare caricare tre cristalli dello stesso colore alla volta perché saranno poi quelli che voi utilizzerete per fare la come posso dire l'elica quindi è meglio averne tre dello stesso colore in maniera che non siano misti e non venga una cosa mal fatta però se non li avete e lo stesso le fatte rifatti misti e il lavoro comunque rende lo stesso perché si vede l'effetto elica adesso sto cercando i più grossi che si vedano questo si può fare con le perle con le perline come volete perché poi queste piccole questi piccoli torsion chiamiamoli così si possono fare anche con perle piccoline con un filo ovviamente dimensioni giuste otterrete una spiralia più piccola da utilizzare per fare non so degli orecchini o anche di un giro collo con tanti giri adesso io faccio risalire tutti i cristalli che ho montato e siamo qua dobbiamo riacchiappare la catenella la vabbè soddisfatta la rifacciamo perché ho detto bisogna lavare lavorare molto stretto per cui facilmente si perdono ecco i cristalli quindi allora qui si fa una catenella tre cristalli e andiamo avanti non lasciate il filo mollo neanche le catenelle fatte strette se non lavoro non è non viene bene cioè si vede un torsion moscio con dei fido ai punti mosci quindi andate avanti così finché non avete finito praticamente la catenella la collana della lunghezza che preferite potete utilizzare questo sistema sia per fare una collana che per fare un bracciale che per fare anche un paio di orecchini perché no solo un pezzettino che poi montate su una monachella quindi essere una tecnica semplicemente da utilizzare per avere questo effetto elica vedete poi portato avanti potete trasformarlo in una collana in un bracciale o quello che volete quindi tutto il lavoro è qua